Il suo nome era Mohamed Ben Ali, ma si faceva chiamare Beifal. Lavorava nei campi della Capitanata, ma nel tempo libero vendeva anche braccialetti e articoli di bigiotteria in strada. Nel ghetto lo conoscevano tutti. E' lui la vittima dell'ennesima tragedia consumatasi a Borgo Mezzanone, la Baracopoli che sorge a pochi chilometri da Foggia e che attualmente ospita circa 1500 migranti, tra cui moltissimi irregolari, mano d'opera per le campagne della Capitanata. L'uomo, 37 anni, di origine senegalese, è stato trovato carbonizzato all'alba di ieri dopo che la sua piccola baracca ha preso fuoco, forse per via di un cortocircuito o più probabilmente, a causa della scintilla di un bracere rimasto acceso. Inizialmente non era stato possibile identificarlo, nel corpo che ha ridotto in cenere il suo alloggio di fortuna, che si trovava in una zona isolata della cosiddetta pista, sono andati distrutti anche gli oggetti personali utili ad identificarlo. Quando i vigili dal fuoco, intervenuti dal distaccamento presente nel vicino centro di accoglienza per i chiedenti asilo, sono riusciti a domare il fuoco. Della baracca e di ciò che c'era dentro era rimasto ben poco. Sul misterioso incendio sono ancora in corso le indagini della Polizia di Stato, ma intanto ci si interroga su questa ennesima tragedia dell'emarginazione e sulle condizioni spesso disumane in cui vivono gli ospiti della baraccopoli. Appelli alle istituzioni sono arrivati in queste ore da molte sigle sindacali, affinché vengano accesi i riflettori sulla drammatica questione dei ghetti dei migranti, simbolo di caporalato, di legalità e di morte. Solo nell'ultimo anno e mezzo sono già quattro i braccianti stranieri ad aver perso la vita nell'insediamento abusivo di Borgo Mezzanone, esattamente come Mohamed. Il ghetto era la sua dimora da circa tre anni, sino a ieri mattina, quando le fiamme che hanno avvolto la sua piccola baracca non hanno inghiottito anche lui.